Eccoci, bentornati su GoGames, siamo sul Resident Evil 4 Remake e in questo video andremo a sbloccare un trofeo. Siamo nel capitolo 12, esattamente in questo punto e andando avanti, quindi passando a questa porta, si attiverà una cutscene e affronteremo una boss fight. L'obiettivo sarà di buttargli una bomba in bocca. Partiamo e vi faccio vedere come fare. Allora, dobbiamo aspettare. Se lui carichi il colpo... Adesso che fa le sputacchiate? No. Attenzione a questi casi che esplodono. Ha circondato il suo maledetto. In questo modo... Vabbè, adesso siamo morti male. Eh sì. Però, in questo modo, noi tirandogli la granata in bocca quando ci viene incontro, andiamo a sbloccare il trofeo. Poi se morite lo rifate, pace e amen. Poco importa, io l'ho già fatto, per cui ho ricaricato per farvi vedere come sbloccare questo trofeo. E detto questo, giovani, per questo brevissimo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, condividete, lasciate like. Grazie mille e alla prossima! Grazie mille e alla prossima!